Da un punto di vista delle classificazioni, questa è una classificazione delle preparazioni, per cui molti di noi hanno lavorato e continuano a lavorare seguendo questa linea di geometria, altri di noi lavorano seguendo questa linea di geometria e sono sicuro che molti altri ancora si avvicineranno a questa in un prossimo futuro. Quindi, prepariamo il dente, viene creato questa leggera apertura del solco, sempre contenuta a un millimetro, e quindi una leggera cruentazione dei tessuti, che se viene fatta correttamente in maniera minimamente invasiva, con delle frese minimamente invasive, perché il diametro delle frese diventa molto importante. Abbiamo frese che vanno da 0,10 a 0,18. Lavorando con frese da tra 0,10 massimo, massimo, fino a 0,14, non oltre 0,14, ma più frequentemente con le 0,10 all'interno del solco, riusciamo ad ottenere questi risultati e riusciamo ad ottenere queste guarigioni a distanza di brevissimo tempo. Perché fondamentalmente la risposta è la guarigione dei tessuti e anche in rapporto a quanto i tessuti vengono cruentati in fase di preparazione. La tecnica che invece utilizzo oggi è diversa. Avendo un provvisorio che mi faccio fare, che va all'interno del solco, io la ribassatura inizia qua. Io metto sulla resina e inizio a toglierla tutta. Ma lo posso fare perché ho questo provvisorio che io so che mi va di 0,5 sotto gengiva. Quindi ho della resina che è andata qui. Quindi tutto quello che a me interessa è già qui dentro. Tutta questa parte a me non serve più. La togliete da subito e la tolgo tutta. Non mi serve tutta quella resina lì. Per quanto riguarda le tecniche, come dicevo, le tecniche si può utilizzare sempre e comunque utilizzare il filo. Qualcuno chiede se è possibile prendere delle impronte senza filo. Per prendere le impronte senza filo ci vogliono alcune cose. Innanzitutto ci vuole un solco molto grande, molto aperto. Il che significa che abbiamo preparato tanto. Dobbiamo aver preparato tanto. Altrimenti il solco, se è corretto, non permette al materiale di entrare completamente. Quindi quei solchi molto ampi, beanti, sono belli per le impronte, ma ci sono degli errori clinici che possono poi successivamente anche comportare dei problemi biologici. Quindi impronte senza filo, mai. Sempre utilizzare un filo. Possiamo utilizzare un filo singolo, come in questo caso, dove io metto un filo 3-0, non ho un solco particolarmente profondo, allora lo tolgo e prendo l'impronta. Oppure l'impronta, il doppio filo, quindi il 3-0 e il 2-0 e poi si prende l'impronta. Oppure l'impronta del provvisorio, come abbiamo visto prima e come vediamo adesso in un altro video. Ma nei settori anteriori voglio avere anche 4 mm. Ma perché? A me servono tutti e tre i millimetri per andare a mettere la corona? No. A me di millimetro ne basta uno o meno di uno per la corona. Tutto il resto mi serve per altro. Tutto il resto mi serve per gestire i tessuti. Quindi una situazione del genere. Questo è il margine di gengivale e il mio margine di chiusura è qui, tra 0 e 1 mm. Tutto il resto mi serve per gestire i tessuti. Ma il mio obiettivo è sempre quello di tenere i margini della corona su impianti nei settori posteriori anche a 0,5 sotto il margine di gengivale. Nei settori anteriori magari qualcosina in più vestibolarmente. Ma interprossimale e palatale posso stare a 0,5, posso stare paramarginale. Utilizzandoli praticamente sempre. Oramai i pilastri senza linea di finitura li utilizziamo in tutti i casi. Ma in realtà, se ci soffermiamo un attimo a riflettere sulla linea di finitura in implantologia, è difficile che biologicamente la semplice linea di finitura possa avere una efficacia sulla risposta dei tessuti. Se riflettete su denti naturali si fanno tante cose che su impianti non si fanno. Si prepara il dente, il dente viene preparato dal clinico e quindi con la manualità legata al soggetto che prepara il dente. Si interviene sui tessuti, cosa che non si fa sugli impianti. I pilastri implantari vengono preparati in un laboratorio in maniera meccanica. Addirittura vengono ormai fatti col CAD CAM. Per cui ci sono tanti passaggi che sono fondamentali sui denti e che sono responsabili poi della risposta dei tessuti che su impianti non si fanno. Allora, la mia domanda, diversi anni fa, è stata ma la linea di finitura in realtà è efficace da un punto di vista della risposta biologica sui tessuti? E se lo è, perché è la linea di finitura in sé o c'è qualcosa che ci sfugge? Allora, se io prendo e vado a considerare questi due pilastri, quindi questi sono dei disegni perché il disegno ci aiuta a visualizzare le cose. Quindi questo è un pilastro con un'anatomia emergente, diciamo, e quindi è un pilastro cosiddetto anatomico che ha una geometria orizzontale e che tende, secondo quelli che sono i canoni classici della protesi sui impianti, a sostenere un pochettino l'emergenza dei tessuti. Questo invece è un pilastro nel quale è stata completamente eliminata qualunque anatomia emergente ed è un pilastro completamente dritto.